Torso ragazzi maschi, alla tre Massimo Meneghelli, alla quattro Fabio Stefanelli, alla cinque Federico Fraccaro, alla sei Alex Bellini Belotti, Serra, Finocchiaro, Checchi, D'Amelio, Caffarri, Ferrari, Manichino, Trebeschi, Colombo, Stefani e Orefice in zona cerimoniale per la quarta serie in corsia due Matteo ma alla testa alla tre Giacomo De Poli quattro Gabriele Sala, cinque Samuele Trovarelli, sei Nicolò Policarpio intanto ricordiamo ancora che Photo Event il fotografo ufficiale della manifestazione ha allestito nella hall della piscina un suo stand dove è possibile consultare i provini delle foto scattate fino a questo momento Grazie 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 stival pinarello baldin in zona cerimoniale invitiamo ancora Belotti, Serra Finocchiaro, Checchi d'Amelio Caffarri, Ferrari, Manichino Trebeschi, Colombo, Stefani e Orefice Grazie a tutti